Abitetto fa festa il Rotonda, Corsaro contro un Bitonto che nonostante il cambio di guida tecnica non riesce a dare una scossa al proprio campionato. I Lucani con l'1-0 rifilato ai Pugliesi riscattano la sconfitta interna di domenica scorsa contro il Barletta e si tirano fuori dalla zona rossa. I Noroverdi invece scivolano al penultimo posto. Nel primo tempo il Rotonda passa in vantaggio già al 14esimo, Cagliazzo viene servito in aria, poi lascia partire una conclusione imprendibile per Tarolli. E' subito 1-0 per i Lucani, un minuto dopo il Bitonto risponde con Tedesco che non inquadra la porta, sul pallone arriva Figliolia che insacca ma c'è fuori gioco, gol non convalidato. Al 17esimo Tangorre si mette in proprio, tiro dalla distanza, Sacco blocca in due tempi. Ci prova anche Figliolia, conclusione in aria murata in corner dalla difesa. Ancora il numero 9 Nero Verde sugli sviluppi di un calcio d'angolo, colpo di testa centrale facile preda del portiere, si va all'intervallo. Ad inizio di presa il Rotonda ha la chance per il raddoppio, Cagliazzo trova al centro aria, Fernandez che tuttavia sbaglia la mira. Sempre Fernandez, poco dopo prova l'Euro gold al centro campo, Tarolli è attento e mette in angolo. Il Bitonto si fa vedere dall'altra parte con Marchitelli, conclusione debole. Al 27esimo proteste in casa Nero Verde, Tedesco trova la rete ma l'arbitro ferma tutto, per un possibile tocco col braccio durante lo stop dell'attaccante. Partita che poi si complica per i pugliesi al 33esimo, con la doppia munizione di Scardigno che lascia in 10 i compagni. Nel finale Bitonto però ci crede, sfiorando il pareggio in almeno due occasioni. Sacco è miracoloso sul tentativo ravvicinato di Tangorre, sulla ribattuta arriva Figliolia di testa, Calegiari ci mette la sua di testa, pallone sulla traversa e poi allontanato. Rotonda che si salva e porta a casa il bottino pieno. Tanto lavoro da fare per Modesto e Santoruvo, sconfitti all'esordio. Nel prossimo turno i Nero Verdi saranno di scena ad Agropoli contro la Gelbison. Rotonda atteso dalla sfida di Coppa Italia di mercoledì contro la Cavese. Si riparte dal secondo tempo con il ponteggio di 2-0 in favore dei campani.